Primo importante squillo di mercato del Giarre. Dopo l'arrivo la scorsa settimana del classe 98 Pezzino dallo Sporting Taormina, la società gialloblu ha infatti ufficializzato il tanto sospirato colpo in attacco. Si tratta di Cristian Scariolo, punta 25enne proveniente dal Gallico Catona, squadra dell'eccellenza calabrese. Classico giocatore d'area di rigore, 1,87m per 78kg, forte di teste e abile a concludere con entrambi i piedi. Il bomber siracusano, che è anche vestito in carriera le maglie di Tre Castagne, Cireale e Paternò, si è aggregato al gruppo già da inizio settimana. Un colpo importante, utile per dare peso a un reparto offensivo che sinora si è interamente aggrappato a Daniel Aleo. Adesso il coefficiente di pericolosità della squadra è senza dubbio aumentato. Il calciomercato e la società del presidente Di Martino però non dovrebbe finire qui. Il DS Sanseverino è infatti al lavoro per rimpiazzare le numerose partenze della scorsa settimana. Mastronardi e compagno infatti hanno lasciato il club per accasarsi al Mazzara, mentre Leotta, Mirenne e Tommasini si sono trasferiti al Sampio X e col difensore Daniele Davi è stato raggiunto l'accordo per una risoluzione consensuale. Si attende dunque ancora un acquisto per reparto. Dopo la quaterna di sabato scorso contro l'Orlandina poi non finiscono le buone notizie per Daniel Aleo. Il numero 9 giallo-blu è stato infatti premiato nella serata di ieri agli Oscar del calcio siciliano tenutisi a vittoria. Il titolo di capocannoniere ottenuto nello scorso campionato di eccellenza con 16 reti segnate gli è valso un prestigioso riconoscimento, unito alla concreta speranza di una luminosa carriera nel calcio professionistico.